bene amici di drone zone oggi siamo a fontana fredda in provincia di pordenone per fare una cosa molto particolare per l'occasione andremo a scansionare questo aereo che vedete alle mie spalle di alitalia che giace qui dall'inizio degli anni 80 avrebbe dovuto essere un ristorante poi per problemi burocratici non se n'è più fatto nulla ed è rimasto qui ad aspettarci per quasi 40 anni per poter essere scansionato avventuriamoci per vedere come questo 3d scan lavora a presto 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 I'm giving you my love, we'll always be together Remove your layers, come as you are, come as you are Ale, 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 ale I'm giving you my love, we'll always be together Ale, 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 ale I'm giving you my love, we'll always be together I'm giving you my love, we'll always be together Remove your layers, come as you are, come as you are Ale, 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 ale Alla, 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 all Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.